Ci siamo. È arrivato il momento di ripartire. Dopo l'immobilità del lockdown, oggi la paura lascia il posto al bisogno di normalità. Così anche il settore automobilistico e quello dei concessionari inizia la sua resurrezione, proponendo strategie e offerte di vendita pensate per aiutare gli italiani in difficoltà e per salvare le vendite, che nei mesi di marzo e aprile hanno rasentato quota zero. La rete Suzuki torna quindi ad accogliere il pubblico attuando presidi di sicurezza ben precisi nel pieno rispetto dei clienti e dei propri dipendenti. Kanjikei in giapponese significa infatti rispettare con il cuore, un'espressione che rappresenta perfettamente lo spirito con cui il marchio nipponico si accinge a vivere in questo periodo storico. Oltre a seguire scrupolosamente le disposizioni di legge che impongono un flusso limitato di persone all'interno degli showroom e osservare tutte le norme igienico-sanitarie necessarie, Suzuki Italia ha ideato la formula Smart Buy, che amplia i servizi online proposti sul sito ufficiale e permette al cliente di approfondire le informazioni inerenti a ciascun modello, configurando la versione a cui è interessato e prenotandola online. E fin qui nulla di nuovo. A fare la differenza in questo caso è l'onestà e la serietà di Suzuki Italia, che garantisce al cliente la massima flessibilità. Nel caso infatti cambiasse idea sull'acquisto, la caparra anticipata con un pagamento online gli sarà completamente restituita. Lodevole anche l'iniziativa attuata in piano lockdown dalla filiale italiana, che prevedeva il posticipo dei termini relativi alle garanzie scadute, alle manutenzioni programmate e alle campagne di aggiornamento di questo periodo.